se volete avere un esempio di come un cane possa dare fiducia e amore incondizionati questo video vi aiuterà questo povero cane ha vissuto molto tempo in strada e lo si vince dalla sua avversione nei confronti degli uomini quando i volontari di hope for pose si avvicinano devono infatti impegnarsi molto per avvicinarlo l'aspetto commovente però è la sua trasformazione quando i volontari di hope for pose si avvicinano devono infatti impegnarsi molto per avvicinarlo l'aspetto commovente però è la sua trasformazione dopo pochi minuti è già pronta a dispensare baci e cock